I lavoratori della Diary Fluids hanno rifiutato l'invito della società a portare avanti per un altro anno il lavoro prima della chiusura e poi arriva da parte della società anche un monito perché non si capisce per quale ragione non si voglia portare avanti il lavoro per altri 12 mesi. Oggi c'è una riunione importante. Cerchiamo di spiegare il quadro di fronte al quale vengono messi i lavoratori. A noi non risulta che abbiamo rifiutato di non rientrare a lavorare, anzi abbiamo dato la massima disponibilità a rientrare a lavorare. L'unica cosa che forse siamo noi che non capiamo ancora perché il direttore di stabilimento si stia interessardendo su questa cosa. Noi abbiamo solo chiesto una cosa molto semplice, rientrare a lavorare con il sistema di turnazione che avevamo fino a un mese fa. Cioè quello concordato già a gennaio 2014 in Confindustria di lavorare tre giorni a settimana e due giorni di cassa integrazione. Facendo mattina e pomeriggio e tutti quanti così, con questo modo di lavorare, tutti quanti lavoriamo tre giorni a settimana. Tutti. Indipendentemente sia un caporeparto che sia un altro tipo di lavoratore. Quindi tutti quanti lavoriamo tre giorni a settimana e facciamo due giorni di cassa. Come hanno fatto loro ci saranno sicuramente dei problemi perché ci sta sicuramente chi lavorerà di più rispetto a un'altra persona. E quindi questo noi come rappresentanti dei lavoratori, visto e considerato che è una fabbrica che comunque sta morendo, perché ce l'hanno detto chiaramente, che chiudono, e allora perché io devo fare un piacere a loro? Noi vogliamo a questo punto che tutti quanti arriviamo fino alla fine, se è dicembre, se è giugno, se è luglio di un altro anno, fino alla fine arriviamo tutti quanti insieme e lavoriamo fino alla fine insieme. Ad oggi invece cosa succede? Stanno lavorando? Se è ferma la fabbrica, insomma qual è il quadro? La cosa più preoccupante è che ci hanno accusato che noi non stiamo facendo entrare i nostri colleghi. Fino a questa mattina i nostri colleghi sono entrati, ne erano 7-8, però sicuramente non possono pretendere da noi che i nostri colleghi entrano e noi gli lasciamo anche il tappeto rosso per terra. È normale che giustamente qualche insulto partirà sicuramente, perché noi stiamo lottando anche per loro. Noi stiamo qua, è un mese che stiamo scioperando, è un mese che non stiamo prendendo lo stipendio. Non è che qua ci sono persone che si possono permettere di stare un mese senza stipendi. Considerando che qui ci sono persone anche sposate e quindi sono due stipendi dentro una casa, due stipendi che in un mese non sono rientrati. E non penso che ci stiamo qua divertendo.